Una ricetta in meno di un minuto. Bella, cuciniamo insieme ad Andrea e dopo il video sulla bottarga di pesce spada fatta in casa, oggi con questa bottarga ci andremo a fare due spaghetti insieme al limone verdello siciliano. A un inni in cucina. Tegliamo in maniera sottile la bottarga, le briciole che si formano teniamole da parte. Un soffritto di aglio e peperoncino togliamo dal fuoco, facciamo scendere la temperatura a 60 gradi e inseriremo le bucce del verdello e le briciole di bottarga. Adesso cuciniamo direttamente gli spaghetti in padella inserendo l'acqua bollente pian pianino. Per i primi minuti non toccate gli spaghetti, questo vi aiuterà poi nella fuoriuscita dell'amido. Dopo due o tre minuti potete cominciare così, a maneggiarli delicatamente. Inseriamo l'olio profumato, dopodiché ci grattugiamo un po' di bottarga, ci grattugiamo la scorza del verdello siciliano e inseriamo se necessita ancora poco poco d'acqua. Spadelliamo bene bene, facciamo riposare in padella un minutino. Impiattiamo in questo modo, mettendo poi del pepe rosa, una figliolina di pentuccia e i petali di bottarga. Ci grattugiamo su ancora un po' di scorza e la nostra cremina. Bad Damage